Francesco Salamano Non dite a mia mamma che faccio il pubblicitario e lei pensa che suoni il piano in un bordello di Jacques Seguelat perché dava uno spaccato di quello che era il mondo della pubblicità completamente diverso da quello che mi sono trovato quindi mi ha fregato e mi ha portato a fare una scelta di campo che però invece mi piace molto